benvenuti amici di romaggialorossa.it da parte di Marco Violi e allora ieri la Roma ha giocato la Michebole contro l'Olimpia Cos e andiamo ad analizzare quello che è andato e quello che non è andato perché a dir la verità è andato veramente molto poco sicuramente la Roma ha preso nei primi minuti della partita in mano il pallino del gioco procurandosi anche il calcio di rigore con Tami Ebram per un fallo di Ortega su Ebram in area di rigore trasformato da Pelligrini con qualche difficoltà al rigore ma al di là di quello non si è visto una manovra offensiva ancora fluida e anche a centrocampo ho visto degli errori abbastanza importanti da parte di alcuni giocatori nella ripartenza per esempio nella costruzione dal basso nella manovra collettiva della squadra non solo offensiva ma anche a centrocampo e in difesa partendo dal basso perché sappiamo che De Rossi comunque costruisce e ama costruire il gioco dal basso e non si può come ha detto Sesso De Rossi iniziare sempre continuamente oppure costantemente l'azione dal portiere ma oppure appoggiare al portiere il pallone per costruire l'azione ma bisogna anche che un difensore imposti il gioco ora qui potremmo aprire un'altra parentesi perché chi è tra mancini e indica che costruisce il gioco o comunque che fa partire l'azione da dietro è chiaro che è per questo che la Roma sta cercando anche un difensore centrale come per esempio Teat che può all'occorrenza appunto far partire l'azione dal basso detto questo è chiaro che mancano alcune terzini perché ieri ha giocato Cevic e ha giocato una partita bruttissima ha giocato Angherinio che ha fatto bene i primi 20-25 minuti e poi è calato moltissimo nel corso della partita e De Rossi poi lo ha sostituito abbiamo subito il gol del pareggio per me il rigore un po' generoso quello dell'Olimpiagos ma tant'è comunque non mi è piaciuta la Roma dal punto di vista proprio dell'organizzazione del gioco è vero che c'è da affinare molto è vero che su Le era la prima partita però su Le Fee mi sono piaciuti molto mi sono piaciuti molto Le Fee è intratrendente insieme a Cristante ha fatto una buona coppia Cristante ha giocato male però se li mettessimo accanto a Le Fee per esempio un Paredes secondo me le cose migliorerebbero notevolmente e lo vedremo anche nella torne inglese della Roma io dico questo che Le Fee è un giocatore che comunque sa dare del tu al pallone è un giocatore che secondo me a mio avviso può fare molto bene anche in Serie A e a livello internazionale e europeo in Europa League su Le ha fatto dei colpi inizialmente anche di tacco anche pedotecnici importanti però sono un po' fini a se stessi però ha cercato comunque di giocare con la squadra considerando che era la prima amichevole il primo test vero che la Roma giocava con Su Le in avanti spostato a destra al posto di Dybala poi nel secondo tempo quando sono entrati Dovig e chiaramente anche Dybala e de Chalawi da 4 e 3 De Rossi è trasformato in un 4-2-3-1 quindi con Le Fee e Cristante su Le a destra Dybala trequartista a svariare per tutto il campo e de Chalawi fermo a sinistra di Chalawi che è apparso in ritardo di condizione ma ancora è normale perché comunque ha fatto anche un europeo e comunque alle tossine ancora secondo me di europeo e per tornare in forma ci vorrà ancora un po' a mio avviso di tempo è chiaro che non si può io ho visto una affinità tra come dire tra Su Le e Dybala importante i due si cercano i due hanno provato a duettare i due hanno provato a creare azioni pericolose ho visto chiaramente perché è arrivato tre giorni fa Dovig che ancora è un pesce fuor d'acqua ma è chiaro, è normale non si può giudicare Dovig dopo un tempo il secondo tempo, quello che ha giocato dopo 45 minuti non si può giudicare bisogna giudicarlo poi nella tournée inglese io credo che sicuramente è un giocatore importante e troverà la giusta affinità con De Rossi con Su Le e Dybala nel corso di questi giorni e sicuramente De Rossi lavorerà per un attacco Su Le e Dybala Dovig magari con un altro esterno alto a sinistra che sia Sharawi, che sia Wesley, che sia Galeno o chi vuole la società tanto questi sono i nomi che si fanno per esserno alto a sinistra e quindi questo io per concludere ho notato abbastanza confusione da parte De Rossi perché è vero che deve fare delle prove ma è anche vero che queste prove devono essere ben organizzate cioè il far giocare sia Pellegrini che Le Fè contemporaneamente ho visto praticamente pestarsi l'uno ai piedi con l'altro e questo non è possibile perché Le Fè ha una grande propensione offensiva Pellegrini ha una grande offensione offensiva quindi io credo che non possano giocare tutte e due insieme o l'uno o l'altro devono alternarsi o l'uno o l'altro nella stessa formazione secondo me Le Fè e Pellegrini non ci possono stare è vero che la qualità quando ce l'hai la devi mettere in campo però è anche vero che a livello tattico ci sono delle cose da dover sistemare ci sono delle cose che devi considerare e quindi se Le Fè e Pellegrini non possono in questo momento giocare insieme li puoi provare in questi amichevoli per vedere e constatare con mano che non possono giocare insieme ma mi avviso quando ci sono le partite che contano o Le Fè o Pellegrini però è chiaro che uno stiamo parlando del capitano della Roma l'altro un giocatore che ha pagato 23 milioni e che devi trovare una collocazione in campo e secondo me da mezzala oppure giocatore nel 231 che si inserisce negli spazi è l'ideale Ebram ormai credo che partirà in direzione Milan se tutto dovesse andare come sappiamo però al di là di questo Ebram lo trova ancora fuori condizione questo è normale per uno che ha avuto un infortunio come il suo chiaramente è stato fermo un anno deve trovare condizione ma l'ho trovato anche involuto tecnicamente perché ho visto sbagliare dei passaggi veramente veramente incredibili quindi insomma ieri più ombre che luci in questo amichevole però sono amichevoli sono test non contano niente o contano fino a un certo punto per far capire all'allenatore al tecnico cosa va e cosa non va correggere gli errori cercare di porre il rimedio e poi nelle partite che contano provare la formazione migliore e scendere in campo con la formazione migliore considerando che Sangaré non può giocare comunque non può essere alternativa a Cedic o comunque ci vuole un titolare al posto di Cedic considerando che Dal non lo conosciamo ancora bene e bisogna vedere pochi minuti per lui non possiamo giudicarlo Anghelinho ha fatto un precampionato molto sotto tono quindi speriamo che in Inghilterra di vedere qualcosa di migliore però insomma è un amichevole 1-1 la Roma non ha perso però ripeto sono più luci che ombre perché dobbiamo ringraziare ancora una volta Santos Pilar che ci ha salvato da una sconfitta secondo me che l'Olimpiagos ha sfiorato a più riprese nel secondo tempo vi ringrazio e vi saluto e naturalmente vi aggiorneremo con le notizie di mercato e non solo anche dei amichevoli della Roma su romagelorossa.it